Voi conoscete probabilmente Google Earth. Google Earth è uno dei primi esempi di realtà virtuale su internet. Ecco, oggi con un visore di realtà virtuale possiamo fare qualcosa che fino a ieri era praticamente impossibile. Cioè volare sulla Terra liberamente in 3D e poter atterrare e quindi avere un'esperienza straordinaria di visita del mondo. Vedete? Vedete, questo è già reale, cioè esiste già una riproduzione tridimensionale di tutto il mondo che può essere visitata volando e utilizzando il proprio braccio come cursore, lo vedete, proiettato nel mondo. Io avanzo col braccio e la realtà mi teletrasporta e mi proietta in questa direzione. Questo è un esempio, farei vedere un altro esempio interessante legato all'educazione che è Google Expeditions. Allora, è evidente che queste tecnologie possono avere un forte impatto a livello di trasmissione dei contenuti, quindi di formazione. Noi stiamo lavorando in questo periodo, ad esempio, sul tema della formazione per la sicurezza. Immaginate la simulazione di un incendio, mi trovo in questo e devo trovare la via uscita. Molto più efficace che una lezione frontale, evidentemente. Allora, in questo caso nelle scuole vengono portati questi visori di cartone, si chiamano cardboard, e poi attraverso un'applicazione specifica i ragazzi possono effettuare, sono già disponibili circa 200 destinazioni, tra cui le città del mondo, l'Antartide, Marte, la Luna, all'interno del corpo umano. E quindi posso avere questa esperienza immersiva guidata dal docente, quindi il docente può fare da guida e portare tutti nello stesso luogo, e quindi avere anche un'esperienza, come dire, controllata di questo strumento. Questo è uno strumento che si prevede quest'anno avrà un milione e mezzo di utenti soltanto in Gran Bretagna. Scusa, questi cardboard sono quelli usati anche dal New York Times per il suo giornalismo immersivo, credono? Sì, sì, anche alcuni giornali italiani hanno cominciato a fare il test di fare qualche filmato di immersive journalism e distribuire i cardboard, molto economici, anche al pubblico. Lo fanno anche delle aziende oggi, cioè ti faccio vedere la mia realtà, ti faccio entrare, ti regalo una scatola di cartone che ti consente poi a casa di vivere questa esperienza. Benissimo. Ancora qualche esempio nella realtà virtuale mista aumentato oppure passiamo all'internet delle cose che è il prossimo grande capitolo? Allora, vorrei solo dare una valutazione di carattere psicologico e percettivo. Noi abbiamo riscontrato nell'uso di questi mezzi un effetto notevole a livello di sensorialità. L'abbiamo chiamato il supersenso. Anche persone disabili o che hanno deficit sensoriali hanno riscontrato un impatto notevole di questi strumenti. Qual è la sensazione? Praticamente di diventare una specie di X-Man, cioè poter teletrasportarsi in un altro luogo, viaggiare nel tempo, nel passato, nel futuro, vedere attraverso pareti oggetti, volare sopra paesaggi e città, quello che abbiamo sempre sognato, in sostanza, voglio dire. Una super vista, vedere nelle cose, vedere le cose micro, piccole o super grandi. Ecco, questa esperienza è qualcosa che l'uomo ha sempre cercato. Molti occhiali vedo, in fondo gli occhiali sono delle forme di supersenso. Però questa cosa ha un supersenso ricco di contenuto e questa è la novità.